Il nuovo Cavanza, al Giro d'Italia 2014, siamo in cima alla salita di Plan di Montecampione. C'è la neve, gli uccellini che cantano e poi c'è la quiete dopo la tempesta del Giro d'Italia. Un silenzio quasi irreale, basti pensare che fino a tre ore fa c'era il casino totale. Normalmente questo è un centro oceistico, è possibile infatti leggere le varie indicazioni. Il panorama è davvero spettacolare, si possono infatti notare i vari strati delle varie montagne sullo sfondo. Questo invece è il complesso che ha ospitato la sala stampa, davvero gigantesco. La sala stampa è in questa area. Non c'è neanche più una transenna, una scritta. Tutto è stato già ripulito. Certo rimarranno le scritte quelle sull'asfalto e quelle sui muri, però la tempesta è passata. Ed è davvero straordinario come il panorama cambi in così poco tempo. C'è gente che ci lavora un anno intero per una tappa. E poi in qualche ora tutto finisce. Oggi però è stato davvero un successo, quindi è uno sforzo che merita. C'è gente che ci lavora un anno. Grazie a tutti Grazie a tutti